eccoci qua cari amici appassionati di veiculi vintage sono qua in compagnia del bravissimo e giovane alex che insomma ha avuto l'occasione così di di trovarci qua un piccolo marvin tour niente quale cosa andiamo a trovare 126 bis guardate qua ragazzi appassionati di degrado abbandono la gente questa volta possiamo dire è degrado abbandono guardate qua immagini altamente drammatiche in questa 126 sepolta della vegetazione guardate qua appassionati di di scatolette io la chiamo scatoletta al suo fascino la dedico qua l'amico nicola anche lui delle zone venete demolitore anche insomma a nicola è sempre piaciuta la 126 per cui quando vedo una 126 viene a mente nicola e niente insomma qua cosa dici alex c'è ben poco da salvare qua una 126 bis avvolta appunto dalla vegetazione insomma così la portiamo a casa guardate qua spettacolare scenografia qua ringrazio anche l'amico iuri che ci ha dato questa dritta e saluto un po tutti gli amici del canale qua sono in compagnia di alex vent'anni appassionato di di trattori agricoli ma di tutti i mezzi insomma vero perché perché hanno fatto la storia siamo qua in un luogo così che si presenta abbastanza dimenticato abbiamo una bicicletta legnano qua eccolo qua anche questa potrebbe qualcuno l'avrebbe già portata via se si scopre il luogo e niente appassionati quali di vecchie auto puntiamo l'amico max walter di quelli del canale stavolta è veramente degrado abbandono con immagini altamente drammatiche la volta sì ma si ritorna a fare vecchio marvin qua e niente insomma importante portare a casa la traccia storica e come vedete anche questa auto così che sta dormendo qua nel silenzio fare da meto è quello che dico sempre perché bisogna portarla dal demolitore certo si arriva se arriva una forestale o qualcuno che si occupa di ambiente chiaramente ti dicono inquinamento però noi insomma non diciamo nulla e ci godiamo questo questo arredamento eh guardate qua ragazzi appassionati di vecchie fiat eh guardate qua la ruggine c'è direi che insomma salvarla sarebbe da pazzi però spettacolo eh che dici alex è un blocco di ruggine ma storica storia bellissimo eh guardate qua la struttura altamente abbandonata a se stessa insomma questo è un po' il fascino di queste strutture che si trovano ancora eh ragazzi con questo vi saluto saluto la vecchia gioca poteva venire anche lei qua con noi insomma vi ho fatto vedere traccia di di ambientazione così campagnola dimenticata che dorme che dorme che dorme guardate qua lo spettacolo appunto fare vedere questi veicoli che dorme ragazzi ciao a tutti spettacolo saluta alex ciao ciao mi dico si farà